Salve, sono il bar della San Moreno, Volkswagen Audi in Rucicchio. Oggi vi presento una nuova arrivata del nostro parco di vetture usate. Si tratta di questa Alfa 147 ed è un 1.6 di cilindrata a benzina, 105 cavalli, dell'anno 2010. Cambio manuale, unico proprietario ed è una vettura già disponibile in pronta consegna. Da queste immagini andiamo ad osservare lo stato d'uso della carrozzeria esterna che presenta qualche ammattatura, qualche graffio. La macchina viene venduta nello stato di carrozzeria in cui si trova e nello stato meccanico in cui si trova. Comunque lo stato meccanico è completamente funzionante. La verniciatura però come potete vedere si presenta sempre in modo veramente brillante e lucido quindi esteticamente è sempre anche bella da vedere. Andiamo a questo punto a vedere anche i dispositivi della nostra vettura. Partiamo dai cerchi da 17 pollici abbinati alle sue gomme sempre ancora da sfruttare e sono gomme quattro stagioni. Siamo anche all'interno della nostra 147. Andiamo ad osservare proprio lo stato d'uso della macchina che comunque l'abitacolo è veramente bello e accogliente. Bello e accogliente perché prima di tutto il precedente proprietario non fumava quindi non abbiamo il classico cattivo odore del fumo non ci sono buchi di sigarette sulla tappezzeria volante di guida sempre bello da vedere come è bello da vedere anche il cruscotto pomellino del cambio. A livello di dotazioni troviamo il suo autoradio con il cd il climatizzatore manuale e come vi ho già anticipato completamente funzionante vetri elettrici, specchiette a regolazione elettrica i vari interruttori vedete per l'accensione dei fari e dei tergicristalli cruscottino centrale sempre bello, pulito, luminoso completamente funzionante dove troviamo il chilometraggio eccolo qua i chilometri sono 114.186 andiamo a vedere proprio nello specifico anche la tappezzeria che vedete i sedili e il tessuto sono sempre molto belli da vedere non ci sono strappi, non ci sono usure come vi ho già detto non ci sono buchi di sigarette perché il precedente proprietario non fumava poi come il nostro solito la tappezzeria è stata lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica quindi quando entriamo all'interno del nostro abitacolo l'accoglienza è veramente ottima, bella quindi ci stiamo molto volentieri all'interno del nostro abitacolo bagagliaio, anche questo pulito perché lavato e igienizzata a vapore come la tappezzeria anteriore e anche spazioso con i sedili posteriori sdoppiabili e abbattibili per fare ancora più spazio dopodiché abbiamo il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura il vano motore è bello da vedere intanto pulito e poi con tutti i suoi componenti al loro posto e vi ho già anticipato che è meccanicamente completamente funzionante dopodiché la vettura prima di essere messa in vendita viene comunque controllata presso il nostro servizio affinché la vettura sia nel suo meglio da vedere ma vi ho già detto che verrà venduta nello stato in cui si trova e con la meccanica naturalmente funzionante dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa come prescrive la legge e adesso salire in macchina insieme a me e andiamo a campare un giro di prova su strada quindi partiamo per il giro di prova analizziamo alcuni aspetti intanto l'abitacolo come vi ho già detto è molto accogliente perché pulito sul sedile ci stiamo molto bene sia il sedere che il dischenale perché è bello largo e confortevole mentre i comandi sono tutti belli morbidi frizione morbida e precisa nello stacco leva del cambio morbida e precisa negli innesti volante morbido assetto di guida a posto perché guardate qua la vettura va dritta su strada volante dritto non ci sono nessuna vibrazione sul volante quindi ha un'ottima scorrevolezza su strada e si guida con molta facilità tutti i comandi sono funzionanti dal climatizzatore all'autoradio alle frecce spie sono tutte completamente spente quindi è ancora comunque una macchina da sfruttare ah dimenticavo non vi ho detto l'anno della macchina è un 2010 poi si guida molto bene nel percorso cittadino perché risponde molto bene al premere dell'acceleratore però si guida molto bene anche nei viaggi più lunghi perché quando mettiamo la quinta marcia la vettura con i suoi 105 cavalli scorre veramente ancora molto bene silenziosa come abitacolo silenziosa come motore si sente un po' il fondo stradale perché con i suoi centi da 17 pollici che sono diciamo di impostazione sportiva si sente un pochino le buche che ci sono ma se la strada è come dovrebbe essere bella liscia scorre via in silenziosità assoluta lo spazio all'interno del nostro abitacolo ne abbiamo veramente tanto sia nella parte anteriore che posteriore dei passeggeri e il bagagliaio anche quello è ampio quindi possibilità di caricare i nostri bagagli vi ripeto che la vettura è già disponibile quindi potete già venire a vederla a provarla su strada e naturalmente saremo pronti a darvi tutte le spiegazioni che volete dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni invitiamo quindi a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto troverete naturalmente anche il prezzo seguiteci poi sui social Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Cuccecchi questa Alfa 147 è già disponibile potete quindi già venire a vederla insieme anche a provarla su strada oppure telefonata ai nostri numeri vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande un grazie per l'attenzione e come diciamo sempre alla prossima vettura seguiteci ci saranno altre auto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti